Regne, sole, monache Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bel romanzo storico che si intitola La Papessa di Milano, appena pubblicato dalle edizioni PM di Livio Gambarini che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite al quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli della papessa di Milano, prego Livio a te. Grazie mille Maurizio e buonasera a tutti coloro che sono connessi, buonasera utenti di Italia Medievale, sono qui per presentarvi la mia ultima fatica letteraria che come ha giustamente introdotto Maurizio è La Papessa di Milano, questo bel tomo che vedete qui nelle mie mani, un libro bello corposo di infatti più di 600 pagine che nelle mie speranze potrà tenervi compagnia magari quest'estate durante le vacanze estive o nelle sere prima di andare a dormire. Di cosa si tratta? Allora, tanto per cominciare diciamo che io non sono esattamente nuovo alla narrazione del Medioevo Lombardo che è il vero protagonista di questo romanzo e per essere ancora più precisi il Medioevo Milanese. Infatti come forse Maurizio ricorderà dai tempi che furono già in passato io sono stato ospite di Italia Medievale per la presentazione di altri miei romanzi storici ambientati proprio in questa cornice. Parliamo delle colpe dei padri, dei segreti delle madri che sono stati fra i primi libri che ho scritto. Oggi sono al numero 8, questo è il mio ottavo romanzo pubblicato, di Acqua sotto i ponti ne è passata ma in qualche misura la papessa di Milano si va a ricollegare a questi miei primi lavori, queste mie prime ricerche in ambito basso medievale in Lombardia, tarda età comunale. Siamo proprio in quell'epoca che si studia sempre a scuola ma poi ce la si dimentica completamente perché è difficilissima da capire standone all'esterno, ma un'epoca che in realtà se la si guarda dall'interno, con gli occhi di chi l'ha vissuta sulla propria pelle, è un'epoca incredibilmente affascinante per una serie di motivi. Primo fra i quali il fatto che ricorda abbastanza da vicino l'epoca che stiamo vivendo noi oggi per certi versi, per tanti versi. È un'epoca in cui dopo un secolo e mezzo e passa di istituzione comunale, quindi una proto repubblica democrazia nel cuore del medioevo, le istituzioni politiche ormai completamente corrotte, completamente deprivate della loro originaria carica appunto democratica, sempre tra virgolette, con cui erano nati e che avevano permesso un rapidissimo sviluppo delle città in cui il comune era assorto, erano appunto ormai diventate poco più che una facciata nelle mani di Guelfi Ghibellini in questo caso, nelle mani delle fazioni politiche, i potenti, le varie consorterie che utilizzavano queste cariche accumulandole e sfruttandone le prerogative per fare la guerra, una guerra di potere, con i loro avversari politici. Cosa che poi porterà porterà la popolazione a essere sempre più insofferente nei confronti della classe dirigente, della classe politica, fino poi quindi alla fine, alla fine drammatica dell'epoca comunale e l'inizio dell'epoca delle signorie, questa epoca invece autoritaria in cui si invoca l'arrivo di un potere, di figure autoritarie, di figure forti, di figure carismatiche in certi casi. Ebbene la dinastia Visconti è ciò che incarna questo momento di transizione per quanto riguarda la Lombardia. Io sono lombardo, sono nato in provincia di Bergamo e ora vivo a Milano, intorno di Milano, e quando ero ragazzo io a scuola avevo sempre detestato lo studio della storia, mi sembrava la materia più noiosa che potesse esistere. Ad avermi fatto nascere tardivamente l'amore per questa disciplina è stato proprio un romanzo storico al liceo, I pilastri della terra. Quando lessi quel romanzo mi resi conto, come per magia, un miracolo che in realtà la storia non era quella noia incredibile che i miei libri di testo tentavano di farmi credere che fosse, ma che invece era qualcosa di incredibilmente vivo, incredibilmente vicino. Era un qualcosa di entusiasmante, di avventuroso, perché lì dentro c'erano i sogni, le ambizioni, le paure di un sacco di uomini, di donne, con appunto ciascuno con i loro principi, il loro modo di vedere il mondo, i tentativi di arrabbattarsi, di trarre il meglio dall'epoca in cui vivevano, eccetera, eccetera, e talvolta anche con la volontà di cambiare il loro mondo, per trasformarlo in qualcosa di diverso, di più giusto, di più umano. E fatta questa scoperta, questa scoperta per me è stata di seminale importanza. Da lì in poi il mio percorso ha avuto un indirizzo. E quindi nella mia volontà c'era proprio quella di narrare come i pilastri della terra avevano narrato l'Inghilterra del Medioevo. Io volevo che la mia carriera d'autore gettasse luce per chi un domani avrebbe letto i miei libri su quello che è stato il Medioevo dalle mie parti in Lombardia. E la papessa di Milano, quindi, dopo aver scritto i colpi dei padri segreti delle madri, giunge oggi finalmente. Ho scritto anche Ottonio il primo dei Visconti a quattro mani con Alex Calvi, che è uscito nel 2021, ha avuto un bel successo con PM Edizioni, mi ha, diciamo, dato un trampolino di lancio per questa pubblicazione che oggi è sicuramente il romanzo di cui sono più fiero, più soddisfatto, più orgoglioso in assoluto, anche perché sta avendo una risonanza superiore a tutti gli altri miei romanzi. Perciò spero che possa essere anche un punto di contatto con tante persone che ancora non conoscono la mia produzione. Una cosa importantissima da dire è che non è necessario aver letto null'altro per poter leggere la papessa di Milano. È uno stand alone, nel senso che, per quanto sia connesso a eventi storici accaduti in altri miei romanzi, si può tranquillamente iniziare a leggere la mia produzione, qualora qualcuno volesse, si può tranquillamente iniziare a leggere da questo romanzo qui, perché è un prequel, è un prequel delle colpe dei padri e dei segreti delle madri. Allora, di cosa parla la papessa di Milano? Allora, è molto, è domanda molto semplice, risposta un po' di meno. Dunque, io partivo dal voler raccontare delle gesta del più importante membro della dinastia dei Visconti in tutta la, diciamo, prima parte della storia della dinastia. I Visconti sono stata una dinastia di gigantesca importanza per la storia italiana. Viene molto spesso sottovalutata, molto spesso dimenticata. Si pensa spesso alle grandi signorie medievali, poi rinascimentali, si pensa subito ai Medici, si pensa subito agli Este, eccetera, eccetera. I Visconti, la dinastia Visconti Sforza, che poi sono la stessa, è esattamente la stessa dinastia, a un certo punto cambia cognome per via di un matrimonio in cui l'ultima Visconti donna sposa uno Sforza maschio e gli tramanda il gonfalone familiare, la stirpe, così come pure il ducato e le proprietà. È una singola famiglia, Visconti Sforza, e in realtà è una dinastia che meriterebbe molta più fama, molta più attenzione di quella che ha, sia per il suo potere politico, sia per, il fascino dei personaggi, dei protagonisti che può vantare, e sia anche per quanto abbiano saputo alcuni di questi suoi interpreti, farsi, diciamo, i modellatori di un'epoca in divenire. La Papessa di Milano è un romanzo che vuole proprio parlare di una di queste epoche, di queste sentono ancora le note discendenti di una sinfonia che ormai sta andando digradando, di un passato che ormai sta cambiando, e iniziano già a sentirsi le vibrazioni, i brividi di un arco ascendente, di un qualcosa che invece si sta avvicinando, di un'epoca nuova, di un cambiamento. E la cosa interessante è che studiando quest'epoca, siamo alla fine del 1200, il romanzo comincia nel 1277, con la famosissima battaglia di Desio, e si conclude nel 1300, anno giubilare, primo giubileo della storia, quando era Papa Bonifacio VIII, l'avversario giurato di Dante. In quest'epoca è molto interessante studiare, andare a studiare molto da vicino i documenti, perché ci si accorge che sono gli stessi uomini e donne che vivono in questa epoca a rendersi conto che qualcosa sta cambiando, qualcosa di immenso sta cambiando. C'è una grandissima rivoluzione in atto, il passato sta per diventare passato, e quello che prima era soltanto un sogno sta per diventare la nuova realtà. L'alba di una nuova era. Loro stessi utilizzano questo termine. Era, era. I medievali suddividevano il tempo in tre grandi ere. La prima era l'era del padre, quella descritta dall'Antico Testamento, che parte con la creazione e culmina con l'arrivo di Cristo, naturalmente, che inaugura la venuta dell'era del figlio, dallo zero naturalmente, in avanti, e poi, almeno secondo alcuni mistici medievali, il più famoso dei quali è sicuramente Gioacchino da Fiore, che aveva profetizzato la fine dell'era del figlio in cui lui stesso era nato e vissuto, aveva profetizzato che cent'anni dopo, in avanti, sarebbe giunto, a precisione nel 1260, sarebbe cominciata l'ultima delle tre ere della terra, del tempo, l'era dello Spirito Santo. Era del padre, era del figlio, era dello Spirito Santo. E chi vive in quest'epoca, i più colti e dotti sanno di queste teorie, che però circolano soprattutto fra i colti, fra i chierici, fra coloro che hanno ricevuto un'istruzione approfondita. Ma anche il popolino sente che c'è qualcosa che frene, che ferve, e se ne rendono conto un po' tutti. E molti ritengono che questo grande cambiamento avrà a che fare con la Chiesa, con la più grande e potente istituzione che ci sia. Il mondo è sorretto dal potere politico, dal potere religioso, ma il potere religioso molto spesso è anche potere politico, e fin troppo spesso è ricco, è corrotto, e tutti quanti se ne rendono conto. Lo pensano in tanti, lo pensano quasi tutti coloro che non fanno parte della Chiesa, e in quest'epoca, siamo all'alba appunto, al crepuscolo del 1200, lo pensano persino molti all'interno della Chiesa. Ricordiamo i movimenti spirituali all'interno degli ordini mendicanti, primo fra tutti nel movimento francescano, ma non soltanto. Anche gli umiliati erano molto forti, soprattutto in Lombardia, ed erano forti i propugnatori di questa necessità di cambiamento. E tutti quanti erano convinti, in quest'epoca in cui è ambientato questo romanzo, che questo enorme cambiamento fosse ormai alle porte. Nessuno sapeva che forma avrebbe preso questo cambiamento, ma era nell'aria, lo si sentiva nelle prediche dei frati domenicani alla domenica, lo si sentiva nelle processioni di disciplini che alcuni di quelli si flagellavano per addossarsi le colpe del mondo, per propiziare e favorire l'avvento di questa nuova epoca. Lo si sentiva nelle aule universitarie a Montpellier, a Parigi, si sentiva la necessità di un cambiamento. E anche nelle piccole comunità tutti quanti erano concordi. E tutti quanti, ecco, che iniziavano a moltiplicarsi gli avvistamenti, i miracoli, le personificazioni, le varie forne in cui il divino poteva partecipare alla vita delle persone. Questa è l'epoca di cui stiamo parlando. Un'epoca, appunto, molto interessante, molto affascinante, che tra l'altro problematizza anche non poco la visione un po' stereotipa che ancora tanti di noi oggi hanno del Medioevo come un'epoca, come dire, chiusa, piatta, bloccata in sé stessa dai suoi pregiudizi, dalle sue suddivisioni in caste. Nulla di più sbagliato. È stata un'epoca enormemente complessa al suo interno, enormemente movimentata, con molte voci, spesso in disaccordo, ma anche con insospettabili momenti in cui hanno preso movimento e slancio certe posizioni che oggi a noi assolutamente farebbero sballordire. E una di queste è proprio il nocciolo del romanzo La Papessa di Milano. In questa epoca di enorme cambiamento, io che volevo raccontare della dinastia Visconti e di Matteo Visconti in particolare, il mio obiettivo era trovare un taglio interpretativo per parlare di Matteo Visconti, che è stato colui che ha fatto grande la dinastia dei Visconti. Prima di lui c'era stato Ottone, l'arcivescovo Ottone, che era stato, diciamo, colui che aveva procurato alla sua casata, che era una casata secondaria della nobiltà milanese, le aveva dato la grande occasione. Lui era riuscito a diventare arcivescovo di Milano. Però, non essendo una carica ereditaria, insomma, non era affatto detto che questa, che questo, questa finestra di opportunità si concretizzasse in qualcosa di duraturo. Tutto risiedeva sulle spalle del suo protetto Matteo. Matteo era il suo pronipote, Ottone era il prozio di Matteo, e questo Matteo, a detta di Ottone, pare che fosse estremamente promettente. E in effetti la sua vita è costellata da eventi notevoli. È stato un condottiero molto valoroso in guerra, ha vinto un sacco di battaglie, anche in condizioni in cui era in forte svantaggio e non era affatto dato per vincitore. Ma in realtà in pace, in tempo di pace, era più brillante ancora che non in guerra. E è stato, diciamo, l'artefice di una delle, dei momenti di maggior gloria, ma soprattutto di maggior prosperità e pace che il Medioevo milanese ricordi. Un'epoca che è descritta dal famosissimo, forse non così famoso, però gli storici lo conoscono assolutamente bene, frate Bonvesin della Riva, autore del, di questo libro qui, che si intitola De Magnalibus Mediolani, le meraviglie di Milano, che è una delle più preziose fonti che abbiamo sulla, su come era fatta una città medievale. Milano nel 1288 è descritta con una dovizia di dettagli incredibile da Bonvesin della Riva all'interno di questo, di questo libro, di questo saggio preziosissimo. Per chi fosse curioso, tra l'altro, iscrivendosi alla mia newsletter, può ottenere un, può avere accesso gratuitamente a un documentario che ho creato proprio per, è una sorta di riassunto del De Magnalibus Mediolani per dare una sbirciata in un'oretta di tempo con un po' di slide e un po' di dati a quella che era la Milano di quest'epoca, chiusa parentesi. In quest'epoca qua, appunto, questo Milano sta avendo una crescita pazzesca, è diventata la città più ricca e più popolosa con ampio margine di tutta Italia e forse la seconda massimo massimo la terza città più ricca e popolosa d'Europa. Soltanto Parigi le sta davanti con sicurezza. È lì che se la gioca con Costantinopoli, mica pizza e fichi. E questo potrebbe sorprendere tanti abituati a pensare a Firenze, a Venezia, come le grandi città italiane. No, no, gli storici sono praticamente concordi nel dire Milano era al primo posto. Alcuni dicono che stoccasse la città 200.000 abitanti solo nell'area urbana. Alcuni diciamo stanno un po' più conservativi, scendono a 180-150.000. La più grande delle altre città italiane dell'epoca, forse siamo indecisi se fosse in testa Firenze o Venezia, Genova stava appena un pochino sotto, le città del sud Italia stavano ancora da lì in giù, erano sui 100.000, quindi un bel pezzo più in giù. Milano sta vivendo la sua epoca d'oro e a reggerla in questa fase terminale del governo comunale è la garanzia dell'arcivesco Vottone Visconti, che in realtà sta preparando il terreno al figlio, il figlio Matteo Visconti, che in effetti è molto giovane e ha moltissimo da dimostrare. Deve persuadere la città in questa epoca di turbolenza, in cui gli antichi nemici, la famiglia della torre, sì, sono stati estromessi della città, ma da estrinse ci sono tutt'altro che inoffensivi, e continuano a far guerra anno dopo anno alla città premendo con le loro armate e con le armate delle città loro alleate per ritornare dentro Milano e fare a pezzi tutti quelli che si sono alleati ai Visconti per sbatterli fuori. E Matteo Visconti diventa a un certo punto, abbastanza presto, il punto di riferimento della famiglia viscontea e diventa chiaro che l'arcivescovo suo zio gli sta preparando la strada per diventare qualcosa di più. Siamo alla fine dell'epoca comunale. E ormai già le magistrature e le strutture amministrative del comune stanno perdendo forza, sopravanza la credenza di Sant'Ambrogio, che è una specie di copertura per una tirannide de facto, che è quella della dinastia Visconti. Matteo inizia a inanellare sempre più qualifiche, sempre più cariche, vittoria dopo vittoria e dopo aver traghettato Milano attraverso gravi crisi e avendo anche portato la città a grandi momenti di miglioramento e di innovazione. È sotto Matteo Visconti per esempio, Matteo Eottone, suo zio, che per esempio Milano si dota per la prima volta di una guardia cittadina, che prima non c'era. È la prima volta che si assiste a una riorganizzazione degli statuti cittadini, che erano un inferno di burocrazia tutta inestricabile al loro interno e che finalmente trova una scansione più organica sotto Matteo. Ci sarà ancora strada da fare e ci penseranno gli eredi di Matteo ovviamente. Però insomma è un'epoca estremamente eccitante per lo studio della città, per l'innovazione, per la crescita della città. Un'epoca in cui anche le forze militari della città, una volta giunte e aggregate sotto il biscione visconteo, permettono a Matteo di insignorirsi quasi di un punto di riferimento importante all'interno della scacchiera politica nord italiana. Questa cosa non è assolutamente incontestata, anzi ci sono vari momenti di scontro, prima con diversi membri della famiglia della Torre che non si sono minimamente rassegnati, poi contro il potentissimo Marchese del Monferrato, Guglielmo VII della dinastia degli Aleramici, e poi ancora contro Alberto Scotti e contro varie altre figure che di quando in quando emergono e tentano di contestare la potenza di Matteo Visconti. Ecco, questo era il romanzo che io volevo scrivere, che ero partito con l'idea di scrivere. E prima naturalmente di mettermi a scriverlo mi sono detto ok studiamo approfonditamente l'interessa della vita di Matteo Visconti per decidere che taglio dare a questo romanzo che vuole raccontare la sua vita. A un certo punto ho scoperto una cosa e l'ho scoperta molto tardi nella vita di Matteo. Ho scoperto che Matteo in diciamo un arco di anni molto posteriore rispetto a quello descritto nella papessa di Milano che come vi dicevo parte dal 1277 quando Matteo è un giovane adulto, 25-27 anni qualcosa del genere, arriva fino al 1300 quindi 23 anni più tardi. Ebbene non finisce lì la vita di Matteo Visconti poi prosegue avrà altre storie altre avventure che magari ne parlerò in futuro in futuri romanzi. In questa in questo periodo più avanzato in età avanzata Matteo verrà scomunicato dal papa tutta la sua famiglia subirà la scomunica e l'intera città di Milano riceverà l'interdetto papale che è il corrispettivo di una minaccia nucleare in epoca medievale. È la più grande calamità che può abbattersi su una città a livello almeno di politica e di religione il che appunto è tutt'altro che qualcosa di trascurabile se ricordiamo l'epoca di cui stiamo parlando. E il motivo per cui Giovanni XXII, pontefice che da Avignone, gli fulmina questa scomunica, il motivo addotto è esilarante. Ce ne sono diversi alcuni dei quali tirano in ballo persino le negromanzie che Matteo avrebbe fatto in compagnia di un altro negromante tremendo di nome Dante Alighieri. È fantastico. Loro due si conoscevano, Matteo e Dante si conoscevano sicuramente. Bensì non è questo il motivo, il motivo primario. Pare che il motivo primario sia il fatto che Matteo e suo figlio Galeazzo, suo primo genito, abbiano aderito a una pestifera sette ereticale. Una sette ereticale fondata niente meno che da sua cugina, la cugina di Matteo Visconti, una donna, una suora appartenente all'ordine degli umiliati, di nome Maifreda Pirovano. Ma Maifreda Pirovano era un personaggio di cui io invece non avevo mai sentito parlare. E quando ho visto questa cosa ho detto ok Matteo Visconti ha avuto secondo il Papa degli ha fatto delle negromanzie insieme a Dante Alighieri con l'obiettivo di assassinare con la magia il pontefice. È stato sostenitore di Fradolcino da Novara, il più tremendo degli eretici forse medievali in almeno nell'arco, nella Lombardia, nell'arco dell'Italia settentrionale. Ma questa cosa sarebbe più grave? Chi è? Chi sarebbe questa Maifreda Pirovano? Fammi andare a cercare, fammi andare a indagare. E da lì apriti cielo le cose che non sono saltate fuori. Ho scoperto che in quest'epoca così appunto tumultuosa, così effervescente di non soltanto di personaggi appunto che si contendevano il potere nel lagone politico. Ma un'epoca estremamente vivace sotto il profilo intellettuale e spirituale in cui era fortissimo e estremamente sentito il dibattito religioso. Perché la religione era ciò che rendeva vivo l'uomo, che rendeva la sua anima qualcosa di calato nel mondo e che gli dava, che dava all'uomo una prospettiva che spaziasse anche al di là delle miserie, della carne, eccetera, eccetera. Era fortissimo il dibattito religioso in quest'epoca. Fioriscono eresie a ogni angolo di strada praticamente. E in questo contesto a Milano, alla fine del 1200, ci fu un'eresia che non mi sarei mai sognato che potesse esistere, perché il suo concetto era sostanzialmente che volevano creare una chiesa al femminile, una chiesa di donne. E il perché e l'origine di questo era qualcosa di assolutamente assurdo. a guidare quest'eresia è stata Maifreda Pirovano, che ci dice la bolla di scomunica del Papa Giovanni XXII, era la cugina di Matteo Visconti. E effettivamente la madre di Matteo Visconti si chiamava Anastasia Pirovano. Matrimoni politici. I Pirovano erano una famiglia molto più potente dei Visconti nel momento in cui quel matrimonio si consumò. Molto più potente dei Visconti. avevano già avuto due o tre arci vescovi solo nel singolo secolo precedente a quel momento lì. I Visconti sono Ottone e Visconti, chiaramente. Ma in più erano veramente radicati dappertutto. Era una famiglia dell'area del Seprio. E a Milano erano potentissimi. Ebbene, chi era questa Maifreda Pirovano? Molto difficile a dirsi. Sappiamo che non siamo neanche certi che fossero storicamente cugini. Lei e Matteo, ma l'atto di scomunica del Papa, insomma, ci dà ragione di ritenere che all'epoca fossero in tanti a ritenerlo. E non soltanto il Papa. Ma soprattutto questa setta, come cavolo era saltata fuori? E come mai a Milano questa setta aveva così tanti seguaci? Perché pare che fosse qualcosa di veramente ampio e peculiare. Non era soltanto il numero di persone che vi avevano aderito a questa setta ereticale. Era proprio le caratteristiche particolari di questa setta. Tanto per cominciare era una setta a cui partecipavano, al cui interno, facevano parte nobili e poveri esattamente allo stesso modo. All'interno dei registri inquisitoriali, che sono il motivo principale, il modo in cui sappiamo maggiormente ciò che è successo, che ci sono pervenuti proprio i registri dell'inquisizione. Qua in questo bellissimo testo della professoressa Marina Benedetti, sono proprio riportati gli atti del processo inquisitorio, con la traduzione a fronte utilissima. È molto interessante leggere in filigrana attraverso le testimonianze di questo gruppo la rete di relazioni che c'era, ed è una rete che bypassa completamente la suddivisione in ceti sociali e in caste rigide che siamo abituati a riconoscere, specie quando si parla di Medioevo. In questa fratellanza, noi adesso la chiamiamo eresia perché è stata dichiarata tale dal tribunale dell'inquisizione milanese. Loro non si chiamavano così naturalmente, loro si chiamavano fratellanza, famiglia. La parola che ricorre più spesso, usavano un sacco di nomi per definirsi, la parola che ricorre più spesso è famiglia, noi siamo una famiglia. E all'interno di questa famiglia c'erano grandi membri della nobiltà, come i Pirovano, ma i Freda Pirovano, Soror della Domus Umiliata di Biassono. C'erano Ser Danisio Cotta, famiglia capitaneale di alta nobiltà legata al monastero di Sant'Ambrogio. Poi c'erano borghesi come i Carentano, i Toscano, che erano famiglie abbienti del ceto mercantile, del ceto produttivo, di quello che si era arricchito molto nel corso del 1200 e che in certi casi rivaleggiava con la nobiltà, talvolta erano più ricchi. E poi c'erano poveracci, cioè persone senza il cognome. C'era Bianca, c'era Bianca che era semplicemente una donna di servizio di domina Sibilla Malconzati e che era niente meno che un membro come gli altri che aveva relazioni e che parlava alla pari con Ser Danisio Cotta, eccetera eccetera. C'erano grandi magistrati cittadini come Maifredo da Grepa e come Guidotto Stanfeo, persone che sono state ambasciatori di Milano in tutta l'Italia. Si dice che all'interno di questa setta ci fosse Galeazzo Visconti, il figlio primogenito di Matteo e futuro erede di Milano e signori annessa e connessa. E a capo di questa, di questo gruppo c'era appunto Maifreda Pirovano e questo gruppo come, come gli era saltato in mente di voler creare una setta, una chiesa al femminile. Ci vuole della, ci vuole della, della fantasia, eh? Ci vuole della, della, del coraggio anche. Ebbene, risalendo ancora un attimino più indietro, ho scoperto, cioè non l'ho scoperto io, non ho scoperto gli storici, io l'ho scoperto studiando i loro, i loro libri, ho scoperto che nel 1260, che per coincidenza migrabile era esattamente l'anno indicato dal profeta Gioacchino da Fiore come l'anno di inizio dell'era dello Spirito Santo, nel 1260 giunse a Chiaravalle una donna dal passato misterioso. Pare che non fosse originaria del contado milanese. Chiaravalle milanese è un'abbazia cistercense che sta a pochi chilometri a sud-est di Milano, ci si può arrivare a piedi quando c'è bel tempo dal centro, eh, dal centro città. Un grandissimo convento cistercense che aveva bonificato aree gigantesche della pianura, aveva fatto del gran bene, dava da lavorare a un sacco di conversi e esportava foraggi che rifornivano una gran parte del bestiame di tutta l'area sud-orientale del contado milanese e esportavano beni anche in città. A un certo punto nel 1260 giunge questa donna con un figlio al seguito a Chiaravalle e non ha niente e diventa una oblata del convento, che significa che ha i mestieri, che dà una mano, che si rimette alla carità del convento e per avere cibo e un alloggio e in cambio presta mansioni umili. Ebbene, nell'arco di pochi anni, non sappiamo esattamente quanti, questa donna si segnala e va, cioè, spicca come una donna assolutamente fuori dal comune. Questa donna si chiama Guglielma, non si sa da dove venga, non è originaria del milanese, e quello che si sa è che è considerata da chiunque le parli come una donna di incredibile saggezza e santità. E questa, la fama di questa donna inizia immediatamente a circolare non solo fra i conversi, gli altri che lavorano a Chiaravalle, le terre dell'abbazia, ma fra gli stessi monaci di Chiaravalle stessa. Pare che addirittura l'abbate ogni tanto vada a parlare con Guglielma per chiederle consiglio. E la fama di questa Guglielma inizia a espandersi. Inizia a espandersi, raggiunge naturalmente la città, la enorme città di Milano, con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi traffici, con i grandi mercanti che 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 trafficano stoffe con le fiandre e mandano dei carichi a Costantinopoli in cambio di spezie e le lane e i metalli, la metallurgia lombarda che già ha l'eccellenza in mezza Europa. E ovunque ci siano traffici, ovunque ci siano grandi guadagni, c'è anche il ci sono i rimorsi della fede e molti vanno da questa Guglielma a chiedere conforto su come salvarsi l'anima. E molti sono anche coloro che soffrono di depressione o come la chiamavano all'epoca desolazione cronica e vanno da questa donna che riesce a salvare l'anima di tutti quelli che vanno da lei. E non si sa come faccia, non si sa da dove venga questa donna con poche parole, poche citazioni del Vangelo, perché lei pare che non facesse altro che citare il Vangelo e mostrare attraverso la sua saggezza, la sua sapienza, il modo in cui si poteva continuare a vivere, si poteva sopportare il peso dell'esistenza, si poteva far fronte a tutte le sfide. E addirittura c'era chi diceva di essere stato sanato miracolosamente dopo le visite a Guglielma. Ci sono persone che riacquistano la vista dopo essere state da lei, ci sono persone che avevano delle fistole che guariscono miracolosamente dopo di lei, molte sono le persone che ritrovano la concordia, l'unità e ritrovano l'equilibrio interiore, potremmo definire noi oggi. Ebbene la fama di questa Guglielma si espande a macchia d'olio. Il convento di Chiaravalle, con un atto quasi altruistico, acquista un immobile a Milano, incontrata San Pietro all'Orto, oggi sta nel quadrilatero della moda, quindi pieno centro, e acquista un immobile e lo dona a Guglielma per permetterle di stare a Milano e di diffondere i suoi consiglieri, la sua saggezza nel cuore di Milano, senza niente in cambio. E Guglielma si trasferisce lì, attorno a lei immediatamente si consolida questa cerchia di fedeli, di fedeli che vanno da lei costantemente e da lei ricevono questi doni spirituali, questa vicinanza. È stato molto interessante per me studiare la figura di questa Guglielma, personaggio fenomenale che sembra proprio spiccare dal suo contesto e che sono gli stessi testimoni che la ricordano, perché è morta Guglielma al giorno dei processi, è morta da un bel po', è morta da quasi vent'anni, quando si apre il processo inquisitorio, ha i suoi seguaci. E pare che, secondo me, è fantastica una cosa che è l'unica frase, diciamo, che è stata riportata parola per parola, una delle pochissime frasi di Guglielma che ci sono giunte parola per parola grazie alle testimonianze processuali. Guglielma pare che ripetesse spesso la frase Piantatela, io non sono Dio. Questo per dire come dovevano vederla i suoi seguaci, quello che lei stava diventando agli occhi di tutti. Molto velocemente la sua fama le consolida attorno un alone di mistero che i suoi seguaci fanno a gara a spiegare nei vari modi diversi. La più evidente è, sono, diciamo, le leggende circa le sue origini. Immediatamente, una cosa che poi diventa praticamente storia, tutti la considerano certa, oggi non siamo affatto certi che sia così, sono appunto le sue origini, la sua ascendenza. Da dove veniva questa donna? Veniva dal nord Europa. Era la figlia niente meno che di re Ottocaro di Bohemia e sua madre era niente po' di meno che la regina Costanza d'Ungheria. Una stirpe di santi, una stirpe di grandi sovrani che erano in contatto diretto con Dio e da cui naturalmente la taumaturgia associata a questa Guglielma e da cui addirittura le cose poi prendono piede sempre di più. È un volano che acquista velocità e l'accumula. Ed ecco che già quando era in vita la stessa Guglielma la gente inizia a pensare che non soltanto sia una santa, perché è palese che Guglielma sia una santa, una santa vivente e fa i miracoli e quando parla con le persone le donne ricominciano, le donne sterili ricominciano a fare figli e chi aveva problemi con i suoi cari li risolve, chi aveva dei nemici diventa amico, fraterno dei suoi nemici e i nemici coi nemici diventano tutti quanti membri della famiglia, della confraternita e tutti quanti dall'in poi prosperano insieme eccetera eccetera. E tutti dopo un po' iniziano a pensare, tutti no, ma all'interno del movimento c'è chi inizia a dire beh è più che una santa, è più simile al Cristo che non, a uno dei tanti santi di cui ascoltiamo le gesta nelle prediche della domenica a messa. E beh però guardate i numeri, 1260 lei è comparsa, prima nessuno sa cosa facesse, di lei non si sa nulla, lei è molto riservata, non ha mai detto una parola su quale fosse la sua origine e quale sia stata la sua storia prima di Chiara Valle milanese, 1260 data profetizzata, le cose non accadono a caso. L'inizio dell'era dello Spirito Santo, dunque lei come il Cristo che era l'incarnazione di Dio nella figura del Figlio che ha aperto l'era del Figlio e lui si è incarnato in un corpo di uomo chiaramente. Allora Guglielma non può che essere l'incarnazione dello Spirito Santo, giunta in un corpo questa volta di donna a completare il messaggio divino. La terza persona della Trinità, l'inizio dell'ultima delle ere dell'uomo e lì dagli con le interpretazioni, dagli con le speculazioni, dagli con ma allora quello che noi stiamo vivendo qui è quello che stanno vivendo, che hanno vissuto gli apostoli giù a in in Giudea, giù ai tempi di Cristo, noi siamo i testimoni viventi di una manifestazione divina e abbiamo una responsabilità verso il mondo. A un certo punto Guglielma si ammala di età avanzata e si assopisce e muore serenamente, possiamo immaginare forse di malattia e lascia questa famiglia, qui lascia un sacco di raccomandazioni fra cui non sono Dio smettete la porco Giuda e la sua ultima raccomandazione è di amarsi fraternamente perché se vogliono fare, se vogliono davvero fare contenta a lei devono soltanto volersi bene, devono stare vicini gli uni agli altri, devono dimenticarsi le differenze perché ricco, povero e anche uomo o donna non sono delle differenze reali, siamo tutti uguali agli occhi di Dio e gli uni con gli altri siamo tutti fratelli e tutto il resto sono sovrastrutture che ci siamo costruiti, sovrastrutture che ci siamo inventati, siamo tutti fratelli e noi che abbiamo tanto abbiamo la responsabilità verso chi ha di meno e dobbiamo essere tutti quanti solidali, ospitali e dobbiamo mettere al nostro desco anche le categorie diciamo più periferiche, più svantaggiate e anche quelle viste con maggior con maggior stigma come citano testualmente i saraceni e gli ebrei e Guglielma diceva voi dovete essere trattare gli ebrei e i saraceni come se fossero i vostri fratelli e non mi importa di nient'altro se volete farmi felice io vi continuerò a guardare anche dall'alto dei cieli quando non ci sarò più e siate sempre amici fra di voi e fratelli gli uni con gli altri e mi raccomando l'uomo con la donna sono la stessa cosa sono pari non c'è una cosa che è nato un messaggio che in quegli anni non era esattamente una cosa nell'aria e come lo può come può esserlo per noi oggi e si potrebbe ed è stato molto interessante per me anche notare come questo tipo di messaggio si sia diciamo mosso all'interno della società medievale perché uno potrebbe pensare il medioevo patriarcato duro di cosa che effettivamente era un messaggio del genere lo avverserà assolutamente chi ha i privilegi se li terrà stretti il contrario i più grandi propugnatori di Guglielma erano uomini ed erano uomini che diciamo con la mente folgorata abbracciavano questo messaggio e cercavano di diffonderlo e naturalmente le donne con loro ma le donne come diciamo loro mogli talvolta erano le donne che tiravano dentro i loro uomini attratte dal messaggio di Guglielma e una volta che avevano attratto i loro uomini gli uomini poi le portavano ad allargarsi è una rete che si allarga su base sociale e anche attrae all'interno anche diverse consorterie consorterie informanti importanti come per esempio i garbagnate che non ho ancora nominato gaspare da garbagnate che fu quasi il braccio destro di matteo visconti per lunghi anni e fu anche il podestà di milano il capitano del popolo di milano la seconda più alta carica di tutta la città era membro dei figli dello spirito santo e entrambi i suoi figli furono tra i membri più importanti dei figli dello spirito santo che era il nome di questa di questa setta figli dello spirito santo tutto torna e dopo la scomparsa di Guglielma le cose per un po' andarono lisce ma non per molto a un certo punto parlando con questa rete sociale che si espandeva Guglielma era sempre stata molto attenta aveva detto state tranquilli non andate ai quattroventi a dire cose che non sono vere su di me state così cioè ciascuno nel suo cerchi di essere bravo con gli altri ma l'obiettivo non è espandere la nostra confraternita ai quattroventi e aveva un po' le caratteristiche delle società segrete questa confraternita questa conventicola a un certo punto però ogni tanto qualcuno invitava l'amica al parente e così a un certo punto una delle delle donne che attenevano a questo movimento invita all'interno a una delle 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 riunioni dopo che era già morta Guglielma che era stata sepolta a chiaravalle all'abbazia di chiaravalle in un gran sepolcro che l'abbate aveva fatto decorare un sepolcro degno di un santo che aveva addirittura iniziato a far edificare una cappella per la per per Guglielma immediatamente anche stato cioè no questo non è certo ma è molto è stato affermato dai dalle testimonianze e non c'è motivo per pensare che non sia così furono anche diciamo avviati processi di canonizzazione per Guglielma processi che non sono andati assolutamente in porto però non si sa a volte succedevano subito altre volte potevano durare richiedere anche decenni comunque Guglielma sta giù a chiaravalle riposa nel suo sepolcro a Milano il suo gruppo di fedelissimi capitanato da Andrea Saramita un un borghese milanese tutto fuoco e carità che si faceva in quattro per aiutare i poveri di qua gli umiliati di là e metteva in contatto quelli che avevano bisogno di qualcuno da far lavorare con questi poveri braccianti non ha niente e li metteva in contatto era sempre in giro e fa si faceva in quattro per tutti e c'era lui e c'era Maifreda Pirovano che era il gru il diciamo il il fulcro invece femminile della della questione a un certo punto una delle donne del movimento invita a una delle riunioni con delle riunioni del movimento un'altra donna sua coetanea e dicendole guarda che noi siamo qui siamo un gruppo che veneriamo Guglielma che probabilmente era l'incarnazione dello Spirito Santo eccetera eccetera e questa donna a cui lo dice lei non lo sapeva ma era la mamma di un inquisitore era la mamma di un frate domenicano del convento di San Teustorgio che sta a sud di Porta Ticinese all'epoca era fuori Milano oggi è considerata assolutamente area cittadina area urbana e nel 1284 Guglielma era morta nell'81 barra 82 ma più probabilmente 81 nell'84 accade questa cosa accade il fattaccio e l'inquisizione viene così a sapere dell'esistenza di questo culto parte il processo inquisitorio un processo inquisitorio che si risolve molto velocemente e molto tranquillamente vengono tutti quanti interrogati loro spiegano cosa aveva detto Guglielma cosa aveva fatto il tribunale inquisitorio dice ah ok prego andate pure quando si pensa all'inquisizione i cani da guardia rabbiosi della chiesa no pare che addirittura siccome proprio c'era un iter processuale una volta che il processo inquisitorio veniva avviato non non è che potessero essere prosciolti come dire siete innocenti non era prevista questa cosa se il processo si avvia in qualche modo i coloro che sono stati accusati devono avere una qualche una qualche un esito deve esserci e siccome una punizione è prevista che ci sia gli inquisitori dopo aver ascoltato tutti quanti i testimoni con una bacchetta la pena è stata con una bacchetta toccare la schiena di tutti gli imputati come dire andate tranquilli cioè a posto così l'inquisizione in quegli anni aveva tante altre gate da pelare aveva gate da pelare con varie eresie alcune delle quali molto violente che avevano anche ucciso degli inquisitori è così che è nato il martire pietro da verona che poi divenne santo lui si venne canonizzato e sono esattamente quegli anni là ancora oggi c'è il suo bellissimo sepolcro che si può visitare a sante ustorgio inquisitore martire ucciso da degli eretici gli inquisitori non aveva non si non si ha notizia di roghi inquisitori almeno io non ne ho trovati prima che l'inquisitore pietro da verona venisse assassinato da degli eretici mentre tornava dal comasco al al convento e da lì iniziò una recrudescenza gli stessi inquisitori come dire si si divennero più rigidi e anche più 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 cattivi se vogliamo eccetera eccetera però per dire anche qua fine 1200 l'inquisizione era già bella attiva eppure era assolutamente umana non c'era niente di simile a quelle quelle cose che a talvolta ci piace raffigurarci con un po di gusto dell'orrido del crudo e del del turpe quando si parla di inquisizione medievale in area lombarda non c'è nulla di tutto questo molti diciamo massificano e pensano all'inquisizione spagnola che effettivamente fece parecchie robe turpi ci furono anche diciamo in epoca rinascimentale in alcune zone del nord italia dei roghi in massa e cose del genere io devo dire che in questa epoca nel milanese ho studiato molto da vicino l'operato degli inquisitori non ho visto nulla che non che che mi fa che mi abbia fatto pensare a qualcosa di disumano o qualcosa di di meno che che ligio alle regole semplicemente come come potrebbe fare un magistrato oggi insomma poi appunto prima prima no dopo invece le cose possono essere andate diversamente sta di fatto che ok inquisizione scampata i figli dello spirito santo sotto traccia rimangono per un bel po a continuare le loro cose e continuando le loro cose iniziano interrogarsi e dicono beh ormai guglielma è morta da diversi anni noi stiamo tranquilli continuiamo a incontrarci alle nostre cene partecipano via via sempre più persone abbiamo capito che non bisogna che non dobbiamo dire che guglielma era lo spirito santo abbiamo capito che dobbiamo stare un po più tranquilli però è soltanto rimandata la questione perché perché lo vediamo tutti attorno a noi che il mondo sta cambiando la chiesa sta cambiando arriva un momento il momento nel 1293 in cui addirittura roma la chiesa roma è così scombinata così lacerata dall'odio fra le fazioni che per un periodo lunghissimo e questo accade più di una volta peraltro non riescono a leggere il papa il conclave dei cardinali conclave non c'è ancora il collegio cardinalizio è così spaccato all'interno da rivalità totalmente politiche temporali che non riescono ad accordarsi su chi deve essere il papa e quindi una settimana due settimane tre settimane dieci settimane 30 settimane 50 settimane arriva una vacanza del una vacanza pontificia che dura mi ricordo esattamente tantissimo più di un anno forse addirittura due due anni e mezzo una roba del genere e dall'esterno cioè tutti sono lì sconcertati che dicono vabbè siamo alla fine la chiesa come la conosciamo con i suoi privilegi consolidati quei cardinali che stanno al vertice e poi i vescovi e la struttura degli episcopati eccetera non funziona più e agli sgoccioli e presto qualcosa succederà e a milano loro dicono beh ma qualcosa deve più succedere qualcuno deve far succedere il cambiamento il cambiamento è partito da noi noi siamo stati i testimoni viventi gli anni stanno passando abbiamo delle responsabilità nei confronti del resto della cristianità che tipo di responsabilità cosa hanno fatto gli apostoli dopo la morte di cristo hanno raccolto la documentazione su le parole di cristo hanno scritto i vangeli hanno scritto le lettere e quindi dobbiamo farlo anche noi ed ecco quindi che andrea saramita maifreda pirovano e civila malconzati e serdanise cote eccetera i capi del movimento dei figli dello spirito santo iniziano a mettersi lì avevano tante case in cui si ritrovavano case ampie spaziose con tanto spazio facevano delle cene facevano tanta beneficenza tantissima beneficenza e poi raccoglievano le testimonianze raccoglievano le frasi le parole gli atti di guglielma e le scrivevano nei loro testi ora e questi testi a questi testi loro davano nomi come ad esempio lettera di sibilla ai novaresi e chi evangelici no perché loro si consideravano questo si consideravano così e ed erano pronti a tutto per essere all'altezza dell'onore che dio aveva riservato loro abbiamo modo di abbiamo motivo di pensare che quando a un certo punto le cose hanno iniziato a peggiorare perché peggioreranno non vi voglio raccontare come finisce la papessa di milano ma è tutto descritto qua ci sarà un altro processo quando cambieranno le cose alla fine del 1200 1299 1300 le cose cambieranno molto perché al vertice della chiesa andranno papi che non sono celestino quinto il quello che sembra effettivamente il papa santo il papa angelico promesso da profetizzato dallo stesso gioacchino da fiore che tutti pensano che sarà grazie a lui sotto di lui che la chiesa cambierà e diventerà qualcosa di diverso e allora forse sarà il turno degli stessi figli dello spirito santo di diventare la nuova chiesa al femminile ma chiaramente se la chiesa è al femminile saranno le donne del movimento che dovranno diventare vescovi cardinali e chiaramente così come pietro ebbe da cristo il la responsabilità tu sarai la pietra su cui edificherò la mia chiesa una una persona all'interno del movimento dovrà diventare la nuova papessa della chiesa e questa persona è niente di meno che maifreda pirova cugina di matteo visconti che in quegli stessi identici anni ormai morto lo zio ottone visconti è diventato vicario imperiale di tutta la lombardia non solo di milano ma di tutta la lombardia e quindi come dire una ascesa parallela di questi due cugini uno in ambito politico e militare l'altra in ambito ecclesiastico in ambito spirituale entrambi con milano per epicentro della trasformazione dell'epoca della nuova era l'era dello spirito santo un'era la cui responsabilità poggiava riposava sulle loro spalle poi cosa succede succede che a un certo punto al seggio pontificio arriva bonifacio ottavo che fa piazza pulita di tutte le le inani corbellerie di celestino quinto lo fa rinchiudere fino a farlo morire distenti il vecchio papa che abdica colui che fe per viltà nel gran rifiuto scriverà dante di celestino quinto poveretto in realtà bonifacio ottavo che ne fu il consigliere e che una volta spintolo all'abdicazione venne eletto a sua volta pontefice non appena sedette al soglio pontificio si dedicò a una profonda riorganizzazione degli episcopati di tutto il nord italia con una azione eminentemente politica in mente per mettere i bastoni fra le ruote alle casate ghibelline che stavano prendendo piede nelle varie città per favorire invece il ritorno delle casate guelfe alcune delle quali nel frattempo erano state fatte smammare dalle città di di competenza come ad esempio i della torre da milano gli antichi nemici dei visconti le due cose sono ovviamente intrecciate e è questa la storia che è narrata all'interno della papessa di milano questa storia ha quattro punti di vista principali che sono matteo visconti e maifreda pirovano che diciamo si intrecciano in continuazione e altri due personaggi ricorrenti sono guido della torre e cassona della torre in esilio uno dei due che è un condottiero militare era il consigliere di napo della torre che era il capo della famiglia della torre della generazione precedente che fu sconfitto ad esio e venne mandato prigioniero al castel baradello a como e morì in una gabbia anche guido della torre che era giovane giovanissima quegli anni venne appeso in una gabbia al castel baradello ma non morì in quella gabbia e dopo un anno due anni tre anni quattro cinque sei sette anni finalmente i suoi parenti trovarono dove era nascosto dopo sette anni di prigionieri stenti in una gabbia ogni giorno lo liberarono e dopo averlo liberato lui diventerà il capo della casata della torre rimessosi in forma non sarà stato facile per niente probabilmente e lui è uno dei due protagonisti del lato torriano della vicenda e l'altro è cassono della torre cassono della torre che invece abbraccia il che è curioso come personaggio storico perché lui è discendente in linea diretta di napo della torre mentre guido è figlio di un fratello di napo della torre c'è cassono potrebbe essere il capo famiglia per 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 diciamo diritto di nascita invece no invece abbraccia la carriera ecclesiastica probabilmente per subentrare alla allo zio raimondo che nel frattempo in friuli era diventato il patriarca di aquileia quindi uno dei principi della chiesa più potenti di tutta quanta la di tutte le province italiane e però non gli riesce di diventare patriarca di aquileia sempre perché bonifaccio ottavo ha in mente altri piani ma in ogni caso alla fin fine qualcosa cambia la ruota della fortuna gira e è scritto che i visconti non riescano a passare indenni a questa stagione in cui sarà il papa da roma a decidere le sorti a volte alcuni trionfano e altri recedono e in questo caso così come all'apertura questo che questo è un libro circolare in effetti si apre con la il giorno successivo alla vittoria dei visconti nella battaglia di desio in cui i torriani vengono scacciati fuori dalla città e incredibile coincidenza questo un libro di in cui le date sono delle coincidenze pazzesche ma non l'ho inventato io è la storia che ce lo dice il giorno stesso in cui i visconti sconfissero i della torre fu il giorno in cui venne alla luce l'erede maschio di matteo visconti il suo primogenito galeazzo nacque esattamente il giorno della vittoria della unica vittoria dei visconti contro i della torre che fu quella decisiva in cui catturarono decapitarono proprio la testa ai nemici torriani e alla fine di questo arco di anni quando i visconti alla fine lo sappiamo ce lo dice la storia vennero effettivamente scacciati fuori da milano e della torre tornarono a milano restituendo il favore chiusero il ciclo e nella stesso momento nel 1302 in cui i visconti vennero espulsi nacque azzone visconti il primo figlio di galeazzo e nipote di matteo e quando si dice le coincidenze sono le rime di dio sicuramente sono le rime della storia questo libro vuole raccontare la storia di questi quattro personaggi e di come sono strettamente intrecciati e di come l'intreccio dei loro fili abbia composto l'arazzo un arazzo dimenticato polveroso ma che con una bella spolverata possa tornare a mostrare i suoi splendidi colori un arazzo che raffigura il passato del medioevo milanese e direi che con questo posso concludere maurizio se hai qualche domanda se qualche curiosità sono a disposizione ma ne avrei tante ma siamo andati belli lunghi quindi io direi che la cosa migliore è suggerire di andare in libreria comprarsi il libro che tra l'altro ha un prezzo più che ragionevole visto che sono 600 pagine ma costano solo 20 euro anzi sono 668 pagine io ricordo il titolo che è la papessa di Milano pubblicato da PM da pochissimo a scriverlo è stato Livio Gambarini che abbiamo avuto il nostro gradito ospite che io ringrazio tantissimo e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove troverete tutte le registrazioni realizzate finora grazie ancora Livio grazie a te maurizio arrivederci a tutti buone letture e buone immersioni nel medioevo Regne solle monache Regne solle monache Grazie a tutti.